Forza Bulgaria, siamo quasi agli sgoccioli. Come tutte le cose belle, anche questa serata è arrivata alla fine. Bene, passo la parola al signor Sindaco e all'assessore allo sport che forse vorranno dire qualche parola. Sì, volevamo ringraziare questi gruppi per lo spettacolo che ci hanno offerto. Quindi il mio grazie al gruppo della Bulgaria, al gruppo della Polonia e al gruppo dell'Ucraina. Un applauso per favore, grazie. Vi ringrazio per lo spettacolo che ci hanno offerto, ci hanno dato un saggio dei loro costumi e della loro cultura. Poi ringrazio anche l'Associazione Sicilia Mia per l'importante iniziativa che in questi anni sta svolgendo nella nostra riviera ionica. Un grazie va anche al consigliere provinciale Pippo Lombardo che ha permesso di poter fare questa sera a Forza D'Agro questo spettacolo. Grazie e buona serata a tutti. Intanto voglio vorrei ringraziare tutti i presenti e speriamo di poter organizzare altre serate simili. Ringraziamo intanto questi gruppi che hanno con i loro sorrisi splendidi e con i loro costumi mi hanno allietato una serata veramente in una cornice direi quasi unica. Speriamo di rivederci ancora e forse noi verremo a vedervi il 16 a Rocca Lumera. È stata una serata splendida, grazie a tutti e ci rivedremo presto. Bene, e dall'Associazione Sicilia Mia vi ringrazio l'assessore Lombardo, l'amministrazione comunale di Forza D'Agro, voi che siete stati così pazienti là ad ospitare i nostri amici. Appuntamento domenica 16 al campo sportivo di Rocca Lumera. Buonanotte a tutti e all'appuntamento per il prossimo anno. Ciao, grazie! C'è la vita mia che vuole salutare tutti voi. Grazie Italia!